Ciao a tutti, ben ritrovati, buona domenica, come state passando questa domenica da pieno autunno, atmosfera, clima, insomma tutto quello che sta accadendo in questa domenica di ottobre possiamo tranquillamente inserirlo in un contesto prettamente autunnale, prettamente autunnale non vuol dire che dobbiamo tenere temperature basse, assolutamente no, perché poi c'è anche questo equivoco, non è autunno se non ci sono temperature basse, non è autunno se c'è il vento di Scirocco e di Libeccio che ci porta a temperature casomai miti, ma i venti di Libeccio e di Scirocco fanno parte del clima, vogliamo chiamarlo microclima mediterraneo, fanno parte del microclima mediterraneo e quasi sempre quando arrivano peggioramenti autunnali nel cuore dell'autunno i venti prevalenti sono proprio i venti di Libeccio e di Scirocco, perché? Perché spesso si creano quelle azioni cicloniche nel cuore del Mediterraneo, soprattutto sul Tirreno che attiva una circolazione ciclonica e questa azione ciclonica, questa circolazione ciclonica per una questione proprio dinamica manda di risposta sull'Italia i venti di Libeccio e di Scirocco, soprattutto poi quando l'azione ciclonica si piazza sul medio tirreno, sul tirreno settentrionale, poi sul medio basso tirreno e poi casomai non va verso est ma continua il suo moto verso sud, quindi verso il nord Africa, quindi nulla di strano sul campo termico e sulla ventilazione, purtroppo rispetto a tanti anni fa queste azioni cicloniche portano sempre, ormai possiamo iniziare a dire veramente sempre, nella maniera più ottimistica possibile, quasi sempre eventi atmosferici poi estremi, perché? Perché viviamo con temperature più alte, scusatemi tolgo un attimo le varie notifiche sugli altri vari computer che ho qui sulla mia scrivania, dicevamo quasi sempre ecco per essere ottimisti queste situazioni portano eventi anche estremi, perché? Perché viviamo con temperature più alte rispetto al passato, sia sui nostri mari e sia anche sui vari piani isobarici, compresa anche la troposfera, quindi ci sono temperature più alte, si crea più vapore acqueo nei piani troposferici, fin sulla troposfera, i contrasti termici sono più elevati e quindi arrivano gli eventi estremi. Eventi estremi sono quegli eventi che portano delle precipitazioni intense, persistenti, che casomai possiamo avere, la statistica ci dice che il quantitativo pluviometrico di quello evento atmosferico cadrebbe normalmente in un arco di 5, 6, 7 mesi, oggi come oggi ci troviamo eventi atmosferici che portano quantitativi pluviometrici che dovrebbero cadere in 5, 6, 7 mesi in 24, 48 ore. Ed ecco l'evento estremo. Ed ecco quindi i fiumi che si ingrossano, i terreni che si ingrossano, gli esondazioni, i terreni ovviamente dove si accumula la precipitazione, le esondazioni e ovviamente gli allagamenti, anche perché poi uno può fare anche tutta la prevenzione possibile immaginabile su dove dovrebbe sfiorare l'acqua, uscire l'acqua, quindi la classica pulizia dei tombini per essere proprio, per usare un linguaggio molto più terra terra e trasparente, svuotare tutto, cercare di mettere la massima prevenzione possibile che va sempre fatta proprio in questa situazione, però se poi arriva una precipitazione di 6, 7 mesi che cade in 24 ore, ecco che la situazione poi degenera e quindi assistiamo a situazioni alluvionali. Insomma guardate, per fare un esempio molto pratico, nel lavandino di casa, se voi aprite l'acqua del lavandino normale, come andrebbe aperta normalmente, insomma un afflusso d'acqua normale, vedrete che il lavandino, l'acqua va tranquillamente dove dovrebbe uscire, va tranquilla, non si appozza nulla e il lavandino rimane sempre praticamente bagnato fin quando esce l'acqua, poi basta chiudere l'acqua, finisce tutto, il lavandino si asciuga e non abbiamo praticamente nessun quantitativo acqua all'interno del lavandino. Se noi già aumentiamo la fuoriuscita dell'acqua con le nostre manopole, la aumentiamo al massimo, la aumentiamo al massimo, ecco che già vediamo che non riesce più a sfiorare normalmente questa acqua, ma si inizia a creare ovviamente la pozza, l'acqua si inizia ad accumulare dentro il lavandino, perché non riesce più a penetrare in maniera omogenea e tranquilla dentro lo sfioratoio e quindi già vediamo che non ci riesce a sfiorare l'acqua. Se poi noi proprio vogliamo azzardare, perché poi è quello che accade, è quello che è accaduto ad esempio in Sicilia, o è quello che sta accadendo in Emilia Romagna e che è accaduto a Bologna, dove purtroppo a me registriamo anche un evento tragico. Prendiamo un secchio d'acqua, una bagnarola, ecco dove le nostre moglie o noi stessi, le nostre mamme mettono i panni, mettiamoci l'acqua e versiamolo completamente in maniera irruenta nel lavandino. Vediamo che l'acqua non riesce a sfiorare, non riesce a fuoriuscire in maniera regolare e rapida, ma si crea ovviamente non una pozza, ma il lavandino si riempie d'acqua e quindi c'è bisogno poi di tempo che l'acqua fuoriesca dallo stesso lavandino. Ed è quello che accade con questi episodi estremi, con queste precipitazioni estreme. Se cade la pioggia che dovrebbe cadere in sette mesi in 24 ore, accade quello che accade in maniera molto semplicistica in un lavandino se noi buttiamo una bagnarola d'acqua. E queste sono situazioni che oggi come oggi accadono sistematicamente, quasi sistematicamente, ripeto per essere ottimisti, ogni qualvolta si crea una situazione depressionaria nel cuore del Mediterraneo, sul mar Tirreno e sull'Italia. Detto questo, prima di continuare a parlare della tendenza di lungo termine. A proposito, ad esempio, nei commenti vi metterò i link dei nuovi canali. In tanti mi avete chiesto di aprire anche dei canali su WhatsApp e su Telegram. Proprio in questo momento ho aperto i due canali. Potete iscrivervi anche lì, così non so mai rimanere aggiornati anche direttamente dai vostri telefonini. Ogni qualvolta io, diciamo, pubblicherò un aggiornamento sui canali Telegram e WhatsApp. Quindi altre due novità. Quindi canali nuovi, Telegram e WhatsApp da poter essere aggiornati anche in questo modo dal mio metro. Ecco, ad esempio, io faccio un video su YouTube. Non avete attivato la campanella oppure non sentite la campanella, ma casomai vi ritrovate il link dell'ultimo video sul canale WhatsApp e sul canale Telegram. Quindi adesso alla fine di questo video, poi una volta che pubblicherò il video nei commenti, vi metterò il link dei canali Telegram e WhatsApp. Freschi freschi, appena nati. Allora, detto questo, tuffiamoci sulla tendenza di lungo termine. Vi confermo praticamente tutto. Lo stacco depressionario che tanto maltempo sta portando su gran parte dell'Italia continuerà adesso il suo movimento verso il Nord Africa, verso la Tunisia, verso l'Algeria e di conseguenza arriverà l'anticiclone delle Azzorri. Quindi respireremo. Vi confermo anche quella situazione in zona Titanic. Quindi arriverà verso la fine di ottobre un'ondulazione si avvicinerà Nord Atlantica Polare verso l'Europa, però poi dobbiamo capire questa ondulazione che strada potrebbe prendere. Ci arrivo subito. Allora, sguardo allo schermo e passiamo qualche minuto a commentare le carte. Iniziamo con la carta al suolo. Da quando l'abbiamo vista la prima volta, ve l'ho fatta vedere la prima volta parlando di una meteorologia nostalgica, vecchia, ma comunque sempre attuale, che ci ha riportato ai tempi di Bernacca, di Baroni e di Caroselli, mi avete chiesto spesso di farvi vedere questa carta. E allora, eccola qui. Anche oggi la carta al suolo è meteorologia nostalgica, è meteorologia vecchia, ma che a noi piace tanto e poi non ci dimentichiamo mai, come vi dico sempre, che gran parte degli effetti atmosferici che noi viviamo sono proprio frutto di quello che accade a livello barico circolatorio al suolo. E qui siamo al suolo. Questa è prevista per domani alle ore 14 italiane. Vedete, molla la presa, la bassa pressione al suolo, non c'è più una bassa pressione strutturata, tende ad aumentare l'alta pressione sul nord Italia, rimane una situazione instabile, un fronte instabile che interessa ovviamente l'Italia, quindi non saremo fuori completamente dal maltempo, o meglio, dal maltempo sì, rimane l'instabilità atmosferica, però poi la tendenza è questa alta pressione di scendere di latitudine, di collegarsi con l'alta pressione delle azzorre e quindi creare una linea anticiclonica tra l'Azzorre, l'Europa occidentale, Mediterranea fino ad arrivare all'Europa orientale. Insomma, il tempo gradualmente e fortunatamente sta guarendo. Passiamo invece adesso a una carta che ci interessa, è proprio, saliamo adesso di quota, andiamo nella libera atmosfera a 5500 metri, siamo a martedì 22, anche questa data l'avevamo individuata, vi ricordate, abbiamo sempre parlato che martedì 22 saremmo usciti poi da questa fase di maltempo completamente. La fortuna, tra virgolette, di non tornare ad una situazione da ottobrata, quindi da un anticiclone di matrice nordafricana e quindi sì, bel tempo, tempo più stabile, ma con temperature oltre le medie del periodo sensibilmente, quindi insomma vivere una situazione piuttosto di disagio quando si vivono, tra virgolette, le ottobrate. La fortuna è che questo stacco è avvenuto, fortuna e poi anche qui ossimoro, paradosso, probabilmente se questo stacco fosse avvenuto più ad ovest, come vi ricordate, si vedeva inizialmente, sì, avremmo vissuto l'ottobrata successiva, o meglio, dopo un break sarebbe tornata l'ottobrata, ovvero un anticiclone caldo di matrice nordafricana, ma probabilmente non avremmo avuto questa fase di maltempo così cattivo, disastroso, catastrofico e anche tragico sull'Italia, perché lo stacco sarebbe avvenuto qui, quindi a parte un pochino di tempo instabile o perturbato temporaneamente sui settori più occidentali dell'Italia, non avremmo avuto. Però, purtroppo, poi, casomai avremmo avuto quella situazione con temperature successiva oltre le medie del periodo, perché l'ottobrata avrebbe ripreso, diciamo, piede in maniera vehementa. Paradosso, Simoro, da un lato si è casomai felici perché questo stacco non è avvenuto qui, ma è avvenuto qui, e allora non abbiamo adesso l'ottobrata che riparte in pompa magna. Però, ahimè, questo stacco avvenendo in questa zona, come è avvenuto, ha portato tutte le conseguenze del caso degli eventi alluvionali estremi e tragici sull'Italia. Parlando, invece, proprio in maniera meteorologica di tendenza, il fatto che questo stacco sia avvenuto e sta avvenendo adesso, vedete se ne sta andando proprio tra l'Algeria e la Tunisia, o meglio, se ne andrà, perché qui siamo in proiezione a martedì 22 ottobre. Cosa permette questo stacco in questa zona? All'anticicrone dell'Azzorre di distendersi sui paralleli europei centrali, fin sul Mediterraneo, arrivando fin sull'Europa orientale. Quindi torna l'alta pressione, torna un tempo un po' più stabile, anche se inizialmente avremo qualche incertezza di instabilità proprio per questa bassa pressione sulla Sicilia occidentale, la Sardegna in parte del nord-ovest, però si ridistende l'alta pressione dell'Azzorre e quindi torna sì un tempo più stabile, ma con temperature più o meno in norma, nella norma stagionale, sempre tutto contestualizzato nel ciclo climatico in atto. Vi faccio vedere adesso la terza carta, invece quella è la tendenza che ci porta verso gli ultimi giorni di ottobre e ci allarghiamo, ce ne andiamo a livello emisferico perché vi ricordate, vi ho detto, dobbiamo tenere sotto controllo un occhio, noi dobbiamo buttarcelo, vi dissi un paio di contenuti fa, verso gli ultimi giorni di ottobre a una risalita dell'alta pressione in pieno Oceano Atlantico che poteva trovare un piccolo spazio per andare a far aumentare la pressione nella zona Titanic. Ormai lo avete capito, lo avete imparato benissimo che quando si crea una situazione di pressione relativamente alta e alta sulla zona del Titanic e quindi tra l'Agroillandia e il Labrador e il Canada, normalmente poi si attivano le ondulazioni nordatlantiche più pronunciate che si muovono verso l'Europa e verso il Mediterraneo. Questo movimento è praticamente confermato, è un movimento che vi confermo, vedete, per venerdì 25 ottobre, torniamo un pochino più a fuoco sulla cartina, però è un movimento più di taglia e cuci, nel senso si crea lo spazio per l'alta pressione perché c'è una saccatura, una bassa pressione verso l'Abrador, la baita di Houston che se ne va, vedete, proprio all'inizio dell'Oceano Atlantico, un'altra che va verso l'Europa settentrionale, ecco il pertugio dell'alta pressione a posizionarsi per semi meridiani, quindi si crea questa ondulazione, ma se, così sembrerebbe, attenzione, se non fosse un taglie e cuci e quindi l'alta pressione troverebbe più spazio e modo per reggersi per meridiani, quindi andando prepotentemente verso l'Agroillandia, ma la pressione già che leggete qui, vedete, 1000, 1500, 995, ci fa capire che non c'è spazio all'alta pressione per andare più in alto, però se ci fosse stato questo spazio allora noi avremmo avuto, o meglio, ancora stiamo parlando di medio e lungo termine, quindi tutto va preso con le cautele del caso, allora noi avremmo avuto un'azione meridiana forte del getto polare verso l'Europa e anche verso il Mediterraneo, il fatto che sia un taglie e cuci, quindi non arriva l'alta pressione, non ha lo spazio per reggersi più di quanto vedete in questa carta, allora l'ondulazione è molto più flebile, sembrerebbe essere molto più flebile e non avere ovviamente la spinta per arrivare diretta verso l'Europa centrale e il Mediterraneo e quindi siamo in questa zona qui per il momento, il 25. Noi l'Italia in questo contesto, se l'azione avvenisse in questo modo, allora temporaneamente avremo una risposta, ma verso il finire della prossima settimana, ovviamente però una risposta dinamica, non per il cambiamento climatico, perché poi qualsiasi cosa accade, anche a livello barico è colpa del cambiamento climatico, una situazione barica che potrebbe portarci verso poi il finire della settimana a una rimonta di correnti un po' più calde e più umidi proprio dal Nord Africa per il getto ondulatorio, quindi un effetto pendolo, qui arriva l'aria più fredda e sull'altro lato arriva l'aria più mite. Però vi volevo far vedere questa ulteriore carta che è per sabato e ci fermiamo qui con il determinismo, però poi vi faccio vedere la media Enz, perché nel corso del prossimo fine settimana si compie o meglio potrebbe compiersi quell'azione, l'alta pressione vedete non troverebbe più il pertugio per ereggersi verso l'agroellandia, verso la zona del Titanic, vedete quanto potrebbe essere bassa la pressione in questa zona e quindi ecco che la saccatura nord atlantica non avrebbe più la forza per spingersi verso l'Italia, ma si staccherebbe con una famosa goccia depressionare perché il getto viene tagliato e quindi potrebbe questa stazione depressionare avere come obiettivo certo la Gran Bretagna, la Francia, la Spagna, il Portogallo e di conseguenza noi stare ai margini con un'aria relativamente più mite di risposta dinamica e il nord ovest, parte del nord, avere invece un ritorno più instabile eventualmente e perturbato. Però guardate, vi faccio vedere l'ultima carta e poi ci salutiamo. Eccola qui, ci spostiamo a 9-10 giorni, quindi andiamo a prendere la media ENS di tutti i clusters di ECMVF, perché qui possiamo solo farci un'idea con il probabilismo, però vedete il tagli-cuci viene confermato, quindi riparte il getto atlantico alto. Però vedete, sembrerebbe dal probabilismo che quello stacco che noi potremmo avere attorno al prossimo fine settimana, lo potremmo avere più orientale, non come ci far vedere il determinismo oggi, ovvero l'alta pressione tornerebbe a inclinarsi verso nord-est, lo stacco non sarebbe prepotente verso la penisola iberica e il Marocco, ma questo movimento che ci fa vedere il probabilismo, cosa ci dice in soldoni, in poche parole? Guardate, lo stacco potrebbe avvenire in questa zona, però il movimento dinamico dell'alta pressione, la spinta delle correnti atlantiche ci fa pensare che poi l'azione depressionale, relazione instabile e perturbata, potrebbe mettersi in cammino verso est e poi proprio verso gli ultimi giorni di ottobre, forse anche, caso mai, verso la zona Halloween e tutti i santi, potrebbe poi rientrare da ovest sull'Italia portando un peggioramento atmosferico in quei giorni lì. Certamente un peggioramento, attenzione, non freddo perché da qualche parte ho letto neve, tutti i santi, Halloween col freddo, con la neve, no, non c'è questa possibilità oggi, però c'è una possibilità tra la fine di ottobre e i primi di novembre eventualmente di un rientro atlantico perturbato verso l'Italia da portare delle piogge, ma certamente con temperature non inferiori alla media e non assolutamente fredde. Quindi facciamoci il nostro recap prima di salutarci, passata questa fase da martedì 22, distensione dell'anticiclone delle Azzorra, il tempo torna ad essere più calmo, più clemente e ne abbiamo bisogno comunque per intervenire su tutti quei posti, quelle zone, quelle località martoriate dagli eventi estremi, quindi torna, si distende l'anticiclone delle Azzorre, torna al tempo più tranquillo, temperature comunque consene al periodo, al periodo sempre contestualizzato nel ciclo climatico in atto e poi verso il finire del mese da valutare quel taglio e cuci sulla zona Titanic, quella conseguente discesa di area polare verso la Gran Bretagna e poi verso l'Europa occidentale e da quel momento, quindi arriviamo proprio verso la fine del mese di ottobre con un occhio anche all'inizio del mese di novembre, quindi tra gli ultimi giorni di ottobre e i primi di novembre, da valutare se poi quello stacco depressionario che avverrà sull'Europa occidentale potrà mettersi in moto verso est andando a portare un peggioramento non freddo ma comunque piovoso sull'Italia negli ultimi giorni del mese e i primi giorni di novembre. Se si attiva questo moto allora potremmo andare incontro a questo tipo di peggioramento, se invece la sezione risulterebbe più statica e quindi quello stacco rimanesse più o meno in zona Europa occidentale allora non possiamo esprimere escludere che gli ultimi giorni di ottobre e primi di novembre possano essere caratterizzati da un'alta pressione soprattutto più attiva al centro-sud e con temperature più alte della media proprio per una risposta dinamica di correnti da sud e da sud-ovest. Staremo a vedere durante il corso dei prossimi giorni. Allora come vi ho detto in apertura, nei commenti vi metterò i link dei nuovi canali WhatsApp e Telegram. Per quanto riguarda YouTube continuate ad iscrivervi, ci avviciniamo anche a ormai pian pianino verso i 1800 iscritti e allora continuate. Vedo che vi piace quello che facciamo, arrivano anche nuovi format, stanno per arrivare, le sigle sono pronte quindi insomma la cosa inizia a piacerci, il canale cresce, continuiamo a farlo crescere, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche, like alla fine del video e commentate come sempre. Continuate a passare una buona domenica.